Ben ritrovati sabato 28 marzo con Infostudio di Un'altra condizione che si apre purtroppo con la notizia della ventesima vittima calabrese del coronavirus, si tratta di una donna di 98 anni che era ricoverata nell'ospedale Covid di Rogliano, ospedale Covid che è stato allestito nel comune che si trova a pochi chilometri da Cosenza proprio per alleggerire il lavoro e la pressione sull'ospedale dell'annunziata di Cosenza che era ricoverata da qualche tempo, peraltro Rogliano lo sapete insieme a Santo Stefano. di Rogliano fra le altre cose è uno dei 12 in questo momento, sono 12 comuni chiusi tra virgolette da ordinanze della presidenza della regione, decretati cioè zona rossa non si entra e non si esce. Fra l'altro questa donna di 98 anni che ripeto è la ventesima vittima calabrese dell'epidemia era la madre della 67enne che viveva a Corigliano, Rossano e che è deceduta martedì scorso sempre a Cosenza. Quindi 20 vittime mentre il numero dei contagi ormai ha superato quota 500 perché stamattina come al solito c'è l'aggiornamento in base ai risultati sugli esiti dei tamponi effettuati anche nella notte e ogni mattina arriva quello del laboratorio dell'azienda ospedaliera pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ieri sera eravamo a 494 casi ufficiali ai quali aggiungerne altri 21 quindi si supera quota 500, c'è attesa perché ieri si è avuto il picco percentuale dell'aumento dei casi anche se è stato effettuato un numero di tamponi molto superiore rispetto agli altri giorni. Bisogna vedere se si tratta di una tendenza o meno e intanto è sempre preoccupante la questione delle RSA, delle strutture che ricoverano anziani e che possono diventare purtroppo sono stati molti i casi in Sicilia, in Lombardia, in Veneto, in Manne, le Marche, anche in conventi addirittura lo sappiamo, che essendo proprio ambienti chiusi e con una presenza fra l'altro di persone dall'età media molto elevata possono diventare dei focolai di infezione. Un'eccezione legata anche al maggior numero di tamponi effettuati o il segnale di un inizio della tendenza al rialzo dei casi? L'aumento dei contagi di ieri in Calabria, 101 persone positive in più rispetto all'altro ieri con un incremento del 13,6%, percentuale finora mai neanche sfiorata. Da Catanzaro il consueto aggiornamento dei dati da parte del laboratorio di analisi dell'ospedale pugliese fa emergere altri 21 casi di positività, due dei quali sono la conferma di positività già note, quattro del Catanzarese, sette dal Crotonese e dieci dal Vibonese, su un totale di 192 tamponi, il che porta a 515 il totale dei contagiati calabresi. Tengono banco in queste ore le vicende delle due case di riposo per anziani di Chiaravalle Centrale di Bocchigliero, che si sono trasformate in veri e propri epicentri del contagio. A Chiaravalle, dopo la scoperta del primo caso, martedì scorso, è venuta fuori una realtà terribile. E poi c'è la denuncia del titolare della struttura, che ha detto che alcuni dipendenti sono tornati a casa sottraendosi alla quarantena nella clinica. A Bocchigliero, i casi di positività accertati finora sono 22, tra pazienti e personale sanitario, ma si parla di recenti decessi di ospiti ai quali il tampone non è stato effettuato. È dopo l'emersione di queste due vicende che si è deciso di sottoporre al tampone tutti gli operatori sanitari delle strutture pubbliche e di quelle residenziali, mentre la CGL ne ha approfittato per denunciare che in Calabria, al contrario di quello che è avvenuto in altre regioni, non si è pensato alla riconversione di alcune linee produttive per sfornare mascherine. Proprio l'approvvigionamento di dispositivi di protezione e le forniture di ventilatori polmonari sono i principali problemi con i quali chi gestisce l'emergenza, provando ad anticipare i nefasti effetti, si ritrova a che fare. Come aveva tre giorni fa, durante la riunione del Consiglio regionale, la Presidente dell'Aggiunta Santelli ripetuto di essere preoccupata per l'esiguo numero di respiratori disponibili, appena sei quelli finora inviati dal Governo, rispetto agli 80 posti letto in più già predisposti. C'è però da sottolineare che circa i tempi di consegna la Consip ha stabilito quattro scaglioni e che solo nell'ultimo, che a termine entra un mese e mezzo dagli ordini, si completerà il grosso dell'operazione, con la consegna di 2.713 dei quasi 4.000 ventilatori acquistati. La Santelli ha detto che la Calabria punterà sugli ospedali hub, confidando di poter allestire un numero conguro di posti letto e che poi si penserà ad attrezzare le altre strutture a livello territoriale. Intanto questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato qualcosa di più di un'indiscrezione, anche se poi è una cosa che un po' tutti ritenevamo, ormai praticamente acquisita, il pezzo a firma di Margherita De Bac, ma poi anche di Fiorenza Sarzanini, che è una delle più autorevoli firme del Corriere. E questa indiscrezione riguarda il prolungamento, la proroga del lockdown, ormai lo chiamiamo così, cioè la conferma della chiusura totale dei divieti di spostamento per altre due settimane, stavolta magari valutando la possibilità di concedere alcune deroghe, seppur minime, per le aziende. Questa comunque sarebbe l'ipotesi cui si lavora, anche perché ormai oggi è 28 marzo, quindi mancano soltanto sei giorni alla scadenza del 3 aprile prossimo del decreto che impone agli italiani di restare a casa per fermare il contagio, con la consapevolezza che per tornare poi a una vita normale ci vorranno ancora diverse settimane, se non qualche mese, e che quanto accadrà nel mese di maggio sarà decisivo per capire come e quando l'Italia potrà dichiarare finita l'emergenza. A proposito di dichiarare finita l'emergenza, dal punto di vista matematico, molti lo avranno sentito, molti lo sapranno già, ma è bene ricordarlo, sarà possibile ritenere di aver sconfitto il coronavirus solo quando il valore dell'R0, questo famoso valore che bene conoscono gli epidemiologi e gli medici, meno le persone comuni, l'R0 è il tasso netto di riproduzione di un'infezione, quando questo valore sarà inferiore ad 1, cioè quando per ogni individuo infetto ci sarà meno di un nuovo contagiato. E già questo basta a comprendere quanto la strada possa essere ancora lunga, ecco perché è necessario continuare a rispettare le regole, ed ecco perché sia Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che Franco Locatelli, che invece presiede il Consiglio Superiore di Sanità, hanno detto a una voce che l'epidemia ha sì rallentato il suo cammino, ma che non è opportuno interrompere le misure di contenimento. Dunque molti sono rimasti colpiti, come non esserlo dall'altro canto, già solo dall'impatto visivo di piazza San Pietro vuota, oltretutto sotto la pioggia il che ha cresciuto il senso forse di angoscia, di oppressione del Papa che impartisce la benedizione Urbi e Torbi. A nostro avviso però il Santo Padre ha pronunciato parole ancora più forti questa mattina all'esordio della Messa a Casa Santa Marta. Sappiamo che ormai, siccome oltretutto le celebrazioni eucaristiche con la presenza del pubblico sono sospese fino a nuovo ordine, c'è la possibilità di sentire la Santa Messa appunto dalla residenza, dalla cappella all'interno della residenza in cui vive il Pontefice. C'è ogni mattina molte le emittenti che la trasmettono. Il Papa ha detto che si iniziano a registrare i primi casi di gente che ha fame, di famiglie che non ce la fanno e questo, secondo il Pontefice, fa già intravedere quello che accadrà dopo l'epidemia, quando l'epidemia sarà passata o forse ancora durante il suo corso, visto che arrivano numeri estremamente allarmanti da molte parti del mondo. Gli Stati Uniti hanno superato i 100.000 contagi, in Spagna oggi siamo vicini ai 385 morti in 24 ore. Queste le parole del Santo Padre stamattina. In questi giorni, in alcune parti del mondo, si sono evidenziate alcune conseguenze della pandemia. una di quelle è la fame, si incomincia a vedere gente che ha fame perché non può lavorare, non aveva un lavoro fisso e per tante circostanze. Cominciamo già a vedere il dopo che avverrà più tardi, ma incomincia adesso. Preghiamo per le famiglie che incominciano a sentire il bisogno a causa della pandemia. Da qualche giorno stiamo insistendo sul fatto che per affrontare un'emergenza, una cosa così enorme, nessuno poteva aspettarselo, come questa occorre avere idee nuove, armi nuove, strategie nuove. La proposta di Oscergo Calabria di un consumo e produzione, consumo ragionato e anche ravvicinati se possibile, l'incontro tra una domanda e un'offerta interna, ci sembra una strategia da riproporre ancora di più in un momento come questo. Affrontiamo subito la tragedia con armi nuove. E' questo l'appello che lancia Io Scelgo Calabria, anticipando scenari economico-sociali davvero drammatici che caratterizzeranno la vita della regione da qui a breve. Io Scelgo Calabria insiste ormai da anni sulla necessità assoluta di rivoluzionare l'approccio politico nei confronti di una regione in cui la crisi è strutturale, infinita, insuperabile. Tutto ciò che è stato fatto non ha prodotto i risultati sperati. Ignoranza, incapacità, incuria, superficialità, corruzione, prevalere degli interessi di pochissimi su quelli di molti, poco importa a questo punto stabilire su quale fattore scaricare le responsabilità maggiori. L'emergenza coronavirus ha infatti accelerato la discesa verso il baratro tanto quanto una guerra mondiale. Lo dicono tanti esperti ormai, a partire dall'ex presidente della BCE Mario Draghi, intervenire subito prima che sia troppo tardi. E se il ragionamento di Draghi vale anche per i contesti più avanzati e produttive, per le realtà economiche del paese tradizionalmente simbolo di ricchezze e organizzazione, si immagini come queste parole possano e debbano essere tradotte in Calabria. Io Scelgo Calabria chiede al sistema regionale, e quindi soprattutto alle classi dirigenti, di concentrarsi sulla costruzione di un sistema produttivo interno basato sul rafforzamento e potenziamento delle piccole e medie imprese, un sistema produttivo incentivato e rinnovato, sostenuto da un mercato locale e regionale. La Calabria, spiega l'editore Salvatore Gaetano, non può più essere una mera colonia, non può essere il mercato di sfogo dei più forti. Dobbiamo fare di tutto per risollevare il nostro tessuto produttivo, che, già debolissimo fino a qualche mese fa, con l'emergenza sanitaria rischia di sparire definitivamente. Ditte individuali, piccole aziende a conduzione familiare, società che gestiscono attività che coinvolgono poche decine di dipendenti, e questo, prosegue Gaetano, lo scheletro che dobbiamo far rialzare per creare ricchezza e nuovi posti di lavoro. La Calabria deve finalmente riuscire a muoversi come un unico organismo, affiatato e coeso. Offerta e domande interne dovranno procedere di pari passo, autoalimentandosi vicendevolmente lungo un percorso virtuoso senza il quale perderemo anche la speranza e il ruolo dei singoli consumatori risulterà determinante. Io scelgo Calabria, con un'azione mediatica costante e forte di intense attività di comunicazione dispiegate nel corso degli anni all'ambizione, superata l'emergenza sanitaria, di coinvolgere il meglio della società calabrese per scrivere una pagina nuova di storia, finalmente attenta ai veri bisogni di una popolazione che ha il sacrosanto diritto di sopravvivere e di non abbandonare i luoghi in cui è nata. E alla coronavirus è legata in fondo alla prima notizia di cronaca di quest'oggi, perché Guardia di Finanza ed Agenzia delle Dogane nel porto di Gioia Tauro hanno requisito due carichi di materiale medico e sanitario del peso complessivo di 19 tonnellate. Questo è il momento in cui vengono aperti i container all'interno dei quali poi sono stati trovati questi carichi. E c'è da dire che questo materiale adesso verrà assegnato alla protezione civile. Si tratta di oltre 364.000 paia di guanti sterili per uso chirurgico provenienti dalla Malesia e di 9.720 tubi endotracheali. I tubi endotracheali sono quelli che vengono usati per intubare le persone che hanno crisi respiratorie, quindi non materiale di scarsa qualità, ma materiale invece di grande utilità in un momento come questo, tanto è vero che ci sono aziende ospedaliere, ci sono aziende sanitarie, ci sono strutture che ne hanno grande bisogno. La requisizione è stata fatta ai sensi degli articoli 6 e 122 del decreto del 17 marzo scorso. Questi articoli stabiliscono che fino a quando durerà l'emergenza è possibile requisire presidi sanitari e medico-chirurgici ed anche beni mobili di qualsiasi genere da ogni soggetto pubblico o privato per assicurarne la fornitura ad ospedali ed aziende sanitarie e che in via d'urgenza il commissario per l'emergenza può adottare provvedimenti per fronteggiare ogni situazione eccezionale. Questa volta il coronavirus non c'entra, ma è sempre cronaca. La polizia ha arrestato Rocco Molè, di 25 anni, figlio del boss Girolamo, 59enne che è stato condannato, sta scontando l'ergastolo ed è considerato a capo dell'omonima cosca di Ndrangheta. Rocco Molè è stato arrestato dopo la scoperta di ben 537 chili di cocaina. I navitalisti poliziotti della squadra mobile di Reggio e del commissariato di Gioia Tauro entrare in un capannone. In questo capannone sono stati trovati degli involucri sigillati. Questi recano, lo avete visto, il logo della team. In ogni pacco ci sono due panetti e poi ce ne sono alcuni che recano il logo del Real Madrid, della squadra di calcio spagnola. E praticamente questa droga, ripeto, 537 chili era in parte nel capannone in parte in un terreno. I poliziotti hanno notato che la superficie del terreno era stata manomessa. Questo terreno è sempre di proprietà di Molè e lì vicino c'era un agrumeto. Hanno cominciato a scavare e, state vedendo, hanno trovato questi teli di plastica che avvolgevano anche qui panetti confezionati in numero superiore a due, al contrario di quelli che erano stati trovati nel capannone. Quindi 150 panetti si trovavano nella capannone, altri 340 nell'agrumeto. Nell'abitazione poi di Molè sono stati trovati anche 24 chili di marijuana. Molè rappresenta la perquisizione e anche l'operazione di scavo. E ha detto di essere l'unico responsabile del possesso della droga sequestrata e per questo che per lui è scattato l'arresto. L'indagine è stata condotta dal sostituto procuratore di Palmi, Daniele Scarpino. Il ritrovamento della droga è avvenuto, per la verità, mercoledì scorso, il 25 marzo, ma se ne è avuta notizia oggi. Il sindaco di Rende, Marcello Manna, ed il presidente della Calabria Film Commission, Giuseppe Citrigno, sono indagati nell'inchiesta Genesi condotta dalla procura di Salerno, che risale ormai a più di un paio di mesi fa, che ha portato alla luce ipotesi di corruzione in atti giudiziari che coinvolgerebbero giudici e avvocati e che sarebbe stata mirata a ottenere sentenze favorevoli, cioè l'aggiustamento di alcuni processi, sia presso la sezione di corte d'appello di cui era presidente, lo vedete nel momento in cui viene tradotto dagli uomini della Guardia di Finanza di Crotone, il giudice Marco Petrini, che era anche presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro. E sarebbe stato proprio Petrini a fare il nome di Manna, che è un avvocato come professione, nell'interrogatorio di tre giorni fa. Petrini ha raccontato che si era rivolto a Manna perché si facesse da mediatore, perché chiedesse a Citrigno una raccomandazione per un regista di La Mezzia Terme, che è cugino di sua moglie. Vi ricordo che stanotte torna l'ora legale, le lancette degli orologi alle due andranno spostate avanti di un'ora, garantendo per i prossimi sette mesi benefici a tutto il sistema, soprattutto chiaramente a quelle energetiche, dunque economico. Nel 2019, secondo Terna, che è il gestore dell'energia elettrica e risparmio, è stato di 505 milioni di kilowattora, che è il corrispondente del consumo medio di elettricità di circa 190 mila famiglie. E poi ci sono le minori emissioni nell'aria di CO2. Fra l'altro la società di gestione specifica che il beneficio del 2020 potrà essere condizionato, influenzato dalla riduzione dei consumi che è stata registrata in questo periodo di emergenza. Le fabbriche, quelle poche che ancora lavorano, comunque sono a scartamento ridotto, molte aziende sono chiusi, i negozi sono chiusi, quindi i consumi sono diminuiti, lo sappiamo. E adesso è il momento di Io scelgo Calabria. Benvenuti a Q2. A questo appuntamento quotidiano con Io scelgo Calabria continuiamo a parlare di questo progetto di comunicazione integrata, che però è molto di più, è un progetto di sviluppo e se vogliamo è prima di tutto un approccio innovativo, rivoluzionario, di tipo filosofico, culturale e politico rispetto al territorio. In buona sostanza, che cosa siamo chiamati a decidere da qui a pochi mesi i calabresi? Vogliamo che questa terra, la Calabria, sia definitivamente la terra dell'abbandono, un luogo dal quale scappare, un luogo dal quale allontanarsi, un luogo nel quale è impossibile esprimere se stessi dal punto di vista lavorativo, professionale, imprenditoriale, dove sia impossibile vivere con dei servizi dagli standard avanzati, dagli standard europei, oppure immaginiamo di poter finalmente intervenire dopo tutti gli errori del passato, dopo tutti i pesanti errori del passato, di poter intervenire per costruire un modello di sviluppo sostenibile, un modello di sviluppo che dia speranza a coloro i quali hanno deciso di rimanere a vivere in questa terra. Guardate, non lo dico casualmente, in questi giorni di tristezza assoluta, ma anche di riflessione profonda, perché queste lunghe ore passate in casa, magari a guardare dei film, a leggere un libro, o semplicemente a riordinare degli appunti, sono serviti anche ad aprire ragionamenti importanti su quello che è il nostro presente e il nostro futuro. La Calabria è stata una terra sfortunata, sfortunata e anche bistrattata, maltrattata, un territorio dal potenziale enorme sotto molti profili, da quello storico-culturale a quello artistico, a quello ambientale, paesaggistico, naturalistico, al centro del Mediterraneo, quindi anche una collocazione geografica favorevole. Eppure non è la terra del turismo, non è la terra del buon vivere, non è la terra in cui si possa decidere di trasferirsi per avere una qualità della vita elevata. I servizi sono complessivamente insufficienti. Non lo vogliamo neanche credere, ma immaginate se la tragedia che è accaduta a Bergamo, che è accaduta a Lodi, che è accaduta a Cremona e in altre città della Lombardia, a Brescia fosse capitata qui, dalle nostre parti. Molto probabilmente non avremmo avuto neanche la forza di parlare, di esprimerci, saremmo rimasti muti, saremmo rimasti muti a riflettere sulle nostre sciagure. Allora è il momento di intervenire, ed io scelgo Calabria per questo, dicevo, è prima di tutto un approccio di tipo nuovo, filosofico, politico, culturale al territorio, e prima di tutto un grande appello perché finalmente ci si mette assieme a ragionare, senza steccati, senza barriere, senza fare quella lotta politica stupida, abbandonando visioni di tipo clientelare, ma anche visioni di tipo assistenzialistico. Non è l'assistenza la cosa che può salvare una terra. Del resto, lo dice la nostra stessa Costituzione repubblicana, dovremmo e siamo una nazione che basa sul lavoro il proprio presente e il proprio futuro. Esiste la possibilità di guardare ad una Calabria diversa. Se finalmente daremo energia, forza alle piccole imprese, fiducia alle famiglie, fiducia a chi ha voglia di fare, dobbiamo rendere tutto più semplice, dobbiamo sburocratizzare, dobbiamo comprendere che una ditta individuale o un piccolo imprenditore che ha uno, due, tre dipendenti, una piccola azienda familiare non può passare le giornate a produrre carte, non può avere quella struttura aziendale che risponda a dei nuovi parametri europei che appaiono astrusi se si è piccoli. Ci sono delle situazioni che sono state pensate per mondi più evoluti, invece abbiamo bisogno di una Calabria che possa confrontarsi con istituzioni e proposte semplici, a partire dal sistema creditizio per finire a tutti i mille adempimenti burocratici che sono necessari per aprire un'azienda o per portarla avanti. Io scelgo Calabria significa quindi prima di tutto amare questo nostro territorio, dedicare tutto a se stessi, decidere di non andarsene, questa già è una prima grande scelta e possibilmente deciderlo anche per i propri figli, perché non combineremo nulla di buono se decideremo di restare quelli che hanno già un'età avanzata e invece sopporteremo l'esodo dei più giovani. Appuntamento a domani con io scelgo Calabria e grazie per averci seguito. Per questa edizione è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, ricordate per restare aggiornati tgcal24.it a domani con io scelgo Calabria e grazie per averci seguito,